Ecco siamo qui in plaza d'Ibisa in Calador e ora andremo verso la cala che si trova qui sotto che è Cala Maior Ecco qui ci sono i dialoni che poi portano verso le altre calette, questa è la piazza Ecco qui abbiamo l'indicazione che per la prossima cala che è Cala Esmeralda e ora andiamo verso questa cala Qui siamo di fronte al Tui Blu Rocadò che è tutto questo grandissimo complesso Ecco qui vediamo l'indicazione per Calagrano Qui si va verso il promontorio e noi andiamo giù verso la spiaggia Qui si va verso la spiaggia Ora proseguiamo su questo sentiero Questa è la Calagrano Ecco il sentiero prosegue fino in fondo Ecco qui si va verso la spiaggia Ecco qui vediamo i punti dove poter fare il bagno Andando immediatamente dentro l'acqua Ancora ritorniamo verso la spiaggia Ancora abbiamo un altro accesso Ecco abbiamo di fronte l'accesso diretto Ecco è con queste immagini da Calagrano Terminiamo questo video